Sovramonte continua a investire sulla viabilità, punto fermo, dell'amministrazione della Torre. Due progetti per migliorare la sicurezza dei paesi e le condizioni del traffico, anche quello turistico, sui quali il Comune si è mosso, grazie al sostegno economico, dei fondi dei comuni confinanti. Abbiamo puntato con ben due annualità di collaborazione con Veneto Strade sulla SP473, che è l'arteria principale, che sarebbe l'arteria che fa il passo Croce Down. Sono due interventi rilevanti, sia di allargamento, sia di attraversamento di paesi, dove avevamo strettoie. Questo ci permetterà di avere anche la possibilità che corriere di una certa lunghezza possano arrivare alla piana con tranquillità. Opere che vedono però complicarsi la loro realizzazione, visti i continui aumenti dei costi del carburante e delle materie prime, i cui effetti si sono già fatti sentire. Il problema che però si pone adesso è il problema delle aziende. Uno dei due lavori era già stato affidato e l'azienda ha rinunciato per il problema dell'aumento dei costi. E questo ci preoccupa non da poco, anche perché uno di questi due interventi va fatto solo nel periodo estivo, non può essere fatto durante l'anno scolastico. Problemi di costi e di tempistiche, quindi, ora, bisogna trovare un'altra impresa che possa subentrare e realizzare l'opera. Interventi del costo complessivo di un milione di euro. Cifre importanti per un comune come Sovramonte, che però, ogni anno, può contare sul trasferimento di 500 mila euro dal fondo dei comuni confinanti e che ha destinato le due ultime annualità proprio a quest'opera. Sono due interventi, entrambi di 500 mila euro, entrambi totalmente coperti dalla legge sui comuni di confine. Senza quella legge, veramente, dal 2010 in avanti avremmo potuto chiudere. Con questa legge, dal 2010, possiamo dire che Sovramonte può avere un futuro tranquillo. Almeno per quanto riguarda le opere pubbliche, può avere un futuro tranquillo.